Musica Milano Pavia News edizione Pavia, buonasera ben ritrovati, andiamo subito a vedere insieme i titoli del nostro sommario. Musica Mine vaganti di cui si dovrebbe sbarazzare da sciogliere immediatamente sono gli attacchi della ciata della vergogna del comune di Voghera e i City Angels che si occupano di aiutari senza tetto. Autorizzare lo spandimento solo i fanghi prodotti all'interno della Lombardia e la proposta della Lega di Mortara per limitare l'utilizzo dei fanghi in agricoltura nei comuni lomellini. Il comune di Pavia riceverà quasi 9 milioni di euro dal fondo di solidarietà comunale, si tratta di risorse che vengono erogate per il potenziamento, in particolar modo, dei servizi sociali e degli asili nico. Dopo le polemiche delle scorse settimane, dall'8 novembre tornerà il tempo lungo nelle scuole di infanzia di Vigevano, il comune ha trovato i fondi, 20 mila euro, per garantire il servizio. Il comune di Marzano investirà 300 mila euro per una serie di interventi in città, si tratta di fondi ottenuti grazie a diversi bandi e serviranno tra l'altro a mettere in sicurezza la viabilità. Questi titoli della nostra giornata, c'è un nuovo capitolo della cosiddetta chat della vergogna della giunta di Voghera, questa volta nei messaggi che vengono scambiati in chat viene attaccata niente meno che un'associazione di volontariato, i City Angels che si occupano di aiutare i clochard, le persone che non hanno una casa senza tetto e in questo caso è l'assessore Gabba a spiegare che dovrebbero venire sciolti. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Armando Bidone. Un'altra bufera scuote Voghera e la riporta sulle pagine dei media nazionali, ancora seguito della diffusione di messaggi compromettenti apparsi sull'ormai nota chat della giunta, questa volta a finire nel mirino dei commenti caustici di alcuni esponenti, in particolare ancora una volta dell'assessore ai lavori pubblici Gabba e l'associazione di volontariato City Angels che dallo scorso anno è operativa in città nel supporto di clochard, persone in difficoltà. L'associazione per inciso è presente in varie città d'Italia e della Svizzera, da Milano a Bergamo fino a Lugano e Palermo, i volontari che avevano siglato un accordo con l'ex sindaco Barbieri, secondo quanto si legge negli screenshot diffusi dall'ormai noto corvo delle chat, sarebbero mine vaganti di cui ci si dovrebbe sbarazzare e l'associazione sarebbe da sciogliere immediatamente perché, oltre che inutile, anche deleteria e deviante ai fini della sicurezza. Parole pesanti e oggettivamente in contrasto con il fine stesso dell'associazione, che è esattamente la sicurezza, che hanno suscitato, come era lecito attendersi, reazioni di sdegno da parte delle opposizioni. Secondo Nicola Fronti, fra i promotori dell'accordo del gennaio 2020 con i City Angels, dai toni usati dalla Giunta emergerebbe una seria minaccia nei confronti suoi e dei volontari stessi, a Fronti ha annunciato quindi una richiesta di aiuto alla Prefettura. Anche Pierezio Ghezzi, di Alleanza Civica Biasi, ma i toni e le parole degli esponenti dell'amministrazione e chiede al sindaco Paolo Garlaschelli di valutare la protezione fisica di questi ragazzi, ha scritto in una nota, mentre il Partito Democratico ha fidato ad una conferenza stampa le proprie reazioni. Sul tavolo una coperta, in segno di solidarietà ai City Angels, che fanno dell'aiuto agli ultimi la propria missione. Per noi i City Angels sono un'associazione fantastica e rappresentano esattamente quello che è il nostro concetto di sicurezza, che parte dalla solidarietà, dall'inclusione e dalla vicinanza agli ultimi. Questa città può essere diversa, non deve andare sui giornali nazionali solo per scandali, concorsi, chat, razzismo e neologismi quali vogherizzazione. La vogherizzazione deve essere l'esempio migliore di come si può vivere in questa città, di come si può amministrare. Voghera non è di questa giunta, Voghera è dei vogheresi, è dei cittadini. Nel corso della conferenza stampa del Partito Democratico, il consigliere comunale Ilaria Balduzzi ha annunciato inoltre una raccolta firme per chiedere che il Comune sia parte civile nel processo a carico dell'ex assessore Massimo Adriatici in relazione alla sparatoria di Piazza Meardi, in cui il 20 luglio scorso, come noto, rimase ucciso un marocchino di 39 anni. Partiremo già dalla prossima settimana con una raccolta firme che poi presenteremo in Consiglio Comunale affinché il Comune si costituisca parte civile nel processo per la morte di Juntz, per la lesione dell'immagine che la città di Voghera ha avuto. Siamo alla cronaca, i carabinieri di Mortara hanno arrestato per truffe in flagranza un pregiudicato 44enne residente in città. I militari della stazione già da alcune settimane avevano avuto alcune denunce e segnalazioni da cittadini che avevano cercato online casi in affitto e avevano trovato l'offerta di un appartamento in via Marianini a prezzi vantaggiosi. L'uomo dava appuntamento alle vittime però si presentava, faceva vedere l'appartamento, poi intascava la caparra e lasciava un mazzo di chiavi che non erano quelle dell'abitazione. Così facendo avrebbe incassato centinaia di euro fino a quando i militari lo hanno sorpreso appunto in flagranza di reato ieri mattina mentre stava mettendo a segno l'ennesima truffa. Il 44enne risulta essere il figlio del proprietario dell'appartamento che però è morto alcuni mesi fa. L'uomo è stato arrestato e sono in corso indagini per capire se abbia commesso altre truffe di questo tipo. Ci sono state perquisizioni e sequestri anche in provincia di Pavia più precisamente a Certosa nell'ambito di una inchiesta della Procura di Roma sul traffico internazionale di stupefacenti soprattutto stupefacenti di nuova generazione che potevano venire acquistati su internet nel dark web. Perquisizioni e arresti anche nei pressi di Certosa di Pavia e in provincia di Piacenza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sul traffico di stupefacenti di vecchia e soprattutto nuova generazione come l'ormai nota droga dello stupro che venivano acquistati sul dark web. 39 le persone finite agli arresti con il blitz scattato all'alba di mercoledì da parte dei carabinieri del NAS. 11 sono in carcere, 28 ai domiciliari, fra di loro sembra ci sia anche un noto politico e Claudia Rivelli, sorella dell'attrice Ornella Muti, oltre a medici, avvocati, funzionari pubblici, architetti, militari in congedo e persino un insegnante che avrebbe fatto arrivare la droga direttamente a scuola. Gli indagati sono accusati a vario titolo di importazione dall'estero e traffico di stupefacenti, fra cui, come detto, la cosiddetta droga dello stupro o GHB-GBL, eroina sintetica, ovvero fentanyl, catinoni sintetici e benzodiazepine, anche per ingenti quantitativi, nonché di sostanze ad effetto psicotropo di prima comparizione in Europa appartenenti alla categoria delle nuove sostanze psicoattive. Tutta roba acquistata all'estero, sul web o sul dark web. Tutte sostanze sostengono gli inquirenti ad elevata pericolosità per la salute a causa degli effetti analoghi o addirittura maggiori rispetto alle droghe tradizionali. Fra le rotte internazionali di provenienza di queste sostanze figurano Canada, Polonia, Repubblica Ceca, Cina, Olanda, Francia e Croazia, oltre a Regno Unito e Germania. In queste settimane sono tornate le segnalazioni per i cattivi odori causati dai fanghi in agricoltura in Lomellina, se ne è discusso anche nel Consiglio Comunale di Mortara. Qui la Lega ha proposto un nuovo regolamento a livello regionale, una proposta che dovrà essere inviata ovviamente alla Regione, cioè di autorizzare allo spandimento solo i fanghi prodotti all'interno della provincia. Sentiamo. Con l'autunno sono tornate gli spandimenti di fanghi nelle campagne. Si moltiplicano in provincia di Pavia le segnalazioni di cattivi odori e proliferazioni di mosche a indicare ancora una volta che qualcosa non funziona. Secondo la normativa, infatti, i fanghi utilizzati in agricoltura dovrebbero essere addirittura in odori come risultato dei trattamenti e della stagionatura. Così non è e sul banco degli imputati finiscono sia il sistema dei controlli che i regolamenti, perfezionati negli ultimi anni, ma ancora poco efficaci riguardo alle quantità. Se ne è parlato nell'ultimo Consiglio Comunale di Mortara, la Lega proponeva una mozione da inviare alla Regione per farsi promotrice di un nuovo regolamento, autorizzare allo spandimento solo i fanghi prodotti all'interno della Lombardia, secondo il principio della territorialità. Perché riteniamo che si possono ottenere qualche vantaggio, cercare di ottenere un miglioramento della situazione. Secondo i calcoli dei consiglieri mortaresi della Lega, si potrebbe arrivare a una riduzione fra l'8 e il 20% dei fanghi disponibili in Lombardia. Troppo poco, secondo Rifondazione, che propone invece una modulazione dei limiti su base provinciale in proporzione al numero di abitanti e all'estensione del territorio. Dalla Lega si sono detti consapevoli delle difficoltà che potrebbe incontrare la proposta di autorizzare lo spandimento solo i fanghi lombardi. Ci sono problemi politici ma anche carenze nei controlli. Il percorso anche dei controlli è ovvio che va potenziato, ma non è tanto il discorso a livello più che alto politico. Deve essere la volontà dei controllori. L'insufficienza dei controlli è stata sottolineata anche dalla consigliera di Forza Italia, Daniela Bio, che ha raccontato di situazioni insostenibili che si stanno vivendo in questi giorni in Lomellina centrale tra Garlasco ed Orno. La consigliera Bio ritiene inutile invocare un principio all'autarchia lombarda nei fanghi senza coinvolgere il Ministero dell'Ambiente. Nel suo intervento ha poi esortato i sindaci a intervenire, dato che sui controlli ha competenza anche il Comune. Parliamo d'altro. Il Comune di Pavia riceverà quasi 9 milioni di euro attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. Si tratta di risorse statali che potranno venire utilizzate per potenziare i servizi sociali e gli asili nido. 8 milioni e 700 mila euro al Comune di Pavia è la cifra destinata all'amministrazione del Mezzabarba attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale. Si tratta di risorse economiche che lo Stato assegna ogni anno agli enti locali delle regioni a Statuto Ordinario dal 2013, quando è stato introdotto con la legge di stabilità. Nel corso del 2021 sono stati stanziati in totale ai comuni italiani 6 miliardi di euro, così come rivelato da uno studio condotto dalla Fondazione Open Police. Risorse economiche importanti che vengono erogate per il potenziamento, in particolar modo, dei servizi sociali e degli asili nido. Per quel che riguarda il Comune di Pavia, poco meno di 400 mila euro dovranno essere destinati proprio a questi settori amministrativi. Fra le voci del finanziamento vanno inoltre evidenziati gli 8 milioni di euro assegnati al Mezzabarba come compensazione per i minori introiti derivanti da IMU e Tasi. Il Fondo di Solidarietà è composto da tre voci principali, ristorativa, finalizzata alla compensazione delle minori entrate per la riduzione di IMU e Tasi e infine tradizionale, destinata cioè al riequilibrio delle risorse storiche dell'ente, uno strumento studiato per rivellare i rivari economici tra gli enti. Andiamo a dare un'occhiata adesso alla situazione dei vaccini e dei contagi in Lombardia e in Italia, come sempre con le nostre grafiche. Lo vedete, le dosi somministrate ieri sono state più di 159 mila a livello nazionale e più di 30 mila in Lombardia. Per quanto riguarda invece i nuovi positivi ogni 100 mila abitanti, numeri che crescono anche se di poco, a livello italiano siamo a quota 43, 27 a livello regionale in Lombardia, 27 in provincia di Milano, 28 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti in provincia di Pavia. Torniamo sulla cronaca con la notizia di una denuncia che arriva da Vigevano, denuncia nei confronti di un 33enne italiano che dopo essersi visto combinare una multa dagli agenti della polizia locale li ha aggrediti, ha preso di mira la bicicletta di uno di loro. Sentiamo. Non si fermano gli episodi di violenza contro vigili e ausiliari della sosta a Vigevano. Nelle scorse ore gli uomini del comando di via San Giacomo hanno formalizzato la denuncia nei confronti di un 33enne italiano residente in città che in preda a una crisi di collera dopo una multa si è accanito contro la bicicletta di servizio di un agente. L'episodio è avvenuto lunedì in una trafficata via del centro. Due agenti avevano appena lasciato sul parabrezza una multa per un'auto parcheggiata sul marciapiede. Mentre si stavano allontanando sono stati raggiunti dal proprietario della vettura che ha cominciato a inveire contro di loro e a minacciarli. Al culmine dell'ira l'uomo ha ferrato la bicicletta di servizio di uno degli agenti e la scaraventata a terra. Non contento ha sfogato tutta la sua rabbia sul velocipide colpendolo più volte. In questi momenti concitati l'automobilista multato avrebbe anche tentato di colpire con un calcio la gente senza riuscirci. Sul posto è stata fatta arrivare una pattuglia di rinforzo che ha identificato l'aggressore. Dai controlli è emerso che il 33enne aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Ora è stato denunciato con l'accusa di minaccia a pubblico ufficiale. Restiamo a Vigevano. Sono stati fissati finalmente i funerali di Filippo in carbone. 9 mesi dopo la sua morte il fratello Sandro è riuscito a completare tutte le procedure burocratiche per poter celebrare le esequie. I funerali sono stati fissati per giovedì 4 novembre alle 15.30 alla chiesa del Sacro Cuore di Vigevano in Corso Genova a pochi passi dalla casa dove Filippo aveva vissuto negli ultimi anni. Per la morte del camionista 42enne sono attualmente in carcere Michael Mangano e Gianluca Iacullo accusati di omicidio e sottrazione di cadavere. Le indagini però non si sono ancora concluse. Filippo in carbone era stato dato per scomparso nei primi giorni di gennaio. Il suo corpo era stato recuperato nelle acque del Ticino oltre un mese dopo. Dalla famiglia fanno sapere che il 4 novembre prima dei funerali sarà allestita una camera ardente a partire da mezzogiorno sempre nella chiesa del Sacro Cuore. Il sabato successivo si celebrerà una seconda cerimonia a Lecce che è la città di origine di Filippo in carbone. Ora torniamo in Oltrepo, andiamo a Voghera dove c'è stato un incidente piuttosto spettacolare anche da alcune conseguenze che ha causato alcune gravi conseguenze al traffico. In via Piacenza un'auto ha perso il controllo, è finita prima contro un'auto parcheggiata, poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. L'automobilista è stato portato in codice giallo alla San Matteo. Paura alle prime luci dell'alba in via Piacenza Voghera, una Fiat 500 in transito dal centro verso la periferia cittadina è uscita di strada finendo contro un'auto in sosta e terminando la sua corsa ribaltata al centro della carreggiata. Il guidatore, un uomo di 33 anni, sarebbe rimasto ferito in modo serio anche se dalle prime ricostruzioni per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Dopo lo schianto sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera che ha soccorso il conducente e dopo avergli prestato le prime cure lo ha trasportato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia. Ancora ignote le cause dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, al momento non si esclude alcune ipotesi. Oltre alla polizia locale che ha svolto i rilievi del caso e all'equipe medica del 118 è intervenuto anche il soccorso stradale Euro Express di Voghera che ha recuperato il mezzo e messo in sicurezza la carreggiata. Parliamo d'altro, la cooperativa Liberamente di Pavia ha lanciato un progetto per aiutare le donne migranti e le donne vittime di violenza in famiglia. Si chiama Si cambia strada ed è un progetto che cerca di ottenere anche dei finanziamenti da parte di partner del territorio per cercare di raggiungere più persone possibili. Un progetto di prevenzione e sensibilizzazione rispetto al delicato tema della violenza sulle donne. Si cambia strada ed è un'iniziativa messa in campo della cooperativa Liberamente di Pavia. Anche il Comune ha deciso di sostenere l'attività di questa realtà presente da anni sul capoluogo, approvando in giunta l'adesione al progetto in qualità di partner. Un appoggio necessario, alla luce dei numerosi episodi di cronaca dell'ultimo periodo. Si tratta di un percorso di aiuto alle migranti e alle donne vittime di violenza in famiglia, per cui verrà chiesto un contributo economico a Fondazione Cariplo nell'ambito del bando emblematico messo in campo ogni anno sul territorio. Il Mezza Barba, tramite il settore delle pari opportunità, ha inoltre sottoscritto la lettera di adesione al paternariato. Diverse sono le azioni progettuali previste. Costruire una rete territoriale che metta a punto delle procedure operative tra i presidi ospedalieri e i centri antiviolenza. Formare operatori sanitari sui temi dei maltrattamenti in famiglia e violenza assistita. Attivare quindi una reperabilità telefonica per nuove richieste di aiuto per gli utenti dei nosocomi. Ultima, ma non per importanza, la realizzazione di colloqui finalizzati alla tutela e all'interruzione del legame violento con il contributo del centro antiviolenza. Torniamo a Vigevano dove dall'8 novembre tornerà ufficialmente il tempo lungo nelle scuole di infanzia comunali, una novità che è stata accolta ovviamente con soddisfazione da parte delle famiglie che avevano chiesto questo ritorno ormai da diverse settimane. Il Comune infatti è riuscito a reperire i fondi necessari per far ripartire i servizi. Dall'8 novembre tornerà il tempo lungo nelle scuole di infanzia comunali di Vigevano. Il servizio non era stato attivato con l'inizio dell'anno scolastico e per questo a settembre c'erano state polemiche sollevate dal Partito Democratico. Il Comune, istante le difficoltà organizzative, aveva preso tempo d'accordo con i presidenti delle assemblee dei genitori, rinviando la decisione alla seconda metà di ottobre tenendo conto delle richieste nel frattempo pervenute. Alla scadenza prospettata, 90 famiglie sulle 270 iscritte alle materne comunali hanno manifestato l'esigenza di poter lasciare i bambini all'asilo fino alle 18 anziché fino alle 16 come previsto dal tempo normale. Il problema del tempo lungo è costituito dal sistema delle bolle per contenere i contagi anti-covid. I bambini fino a 6 anni non portano la mascherina e per questo non possono incontrare i compagni delle altre sezioni. Il Comune deve quindi prevedere un educatore per ciascuna classe, indipendentemente da quanti chiedano il tempo lungo. Prima del covid per garantire il servizio bastavano tre insegnanti, uno per scuola, adesso ne servono 12 che verranno reclutati tramite cooperativa. Oggi è una giornata bellissima perché possiamo finalmente confermare che abbiamo trovato le risorse e parliamo circa di 20.000 euro per poter ripristinare il tempo lungo delle scuole materne della città di Vigevano. Dall'8 di novembre fino al 31-12 noi andremo a garantire il tempo lungo. Stiamo attenzionando l'emergenza sanitaria perché ad oggi scadrà il 31-12. Se così non fosse la nostra attenzione sarà quella di trovare altre risorse per poter garantire così ancora il ripristino del tempo lungo anche per l'anno 2022. Si stanno intanto riaprendo le iscrizioni per il pre e post scuola delle primarie, servizio che era già stato attivato con l'inizio dell'anno scolastico. Ci sono una sessantina di posti liberi divisi tra i vari plessi. I genitori potranno fare una domanda con un click day previsto il 3 novembre. Le informazioni su come presentare la domanda e il dettaglio delle disponibilità per ciascuna scuola sono pubblicate sul sito del Comune. Il Comune di Marzano sta invece per dare il via a un corposo programma di interventi grazie ad alcuni bandi statali, interventi che permetteranno cantieri in città per 300.000 euro. Non solo la gestione delle emergenze a causa dell'ultimo nubifragio, a Marzano l'amministrazione comunale sta programmando un ricco piano di opere pubbliche grazie all'aiuto economico derivante dai bandi. Abbiamo ottenuto numerosi successi negli ultimi mesi per quanto riguarda i bandi sia regionali che statali e riusciremo ad intervenire sul ponte stradale che c'è in via Milano, è un ponte ancora che aveva realizzato Maria Teresa d'Austria e ha grossi problemi dal punto di vista specialmente dei massi che contengono la viabilità, verrà completamente ripristinato a carico della provincia con la quale abbiamo avuto occasione di avere un incontro e sempre da parte dell'amministrazione provinciale avremo anche un finanziamento per realizzare assieme al finanziamento regionale la nuova passerella ciclopedonale sempre in via Milano. Ma l'attenzione riguarda anche le frazioni con interventi sia sugli asfalti che sui parcheggi. Inoltre in un'altra frazione che è Spirago si riuscirà anche qui grazie ad un bando regionale e ad un aiuto, un cofinanziamento provinciale a realizzare l'intero rifacimento con fresatura e la posa di nuovo asfalto per tutta la via Bergamaschi e via Lambro che è quella che porta alla chiesa della frazione. Questo è assolutamente necessario perché sono decenni probabilmente che specialmente all'interno non venivano effettuati lavori. Non ci fermiamo qua, abbiamo da completare il posteggio che è già in fase di ultimazione comunque nel segno di frazione Castellambro a fondo via Pontevecchio. Anche quello darà la possibilità ai nostri concittadini di avere uno sfogo per quanto riguarda il posteggio delle autovetture vicino alle loro abitazioni. 300.000 euro è la cifra complessiva intercettata da Marzano attraverso i bandi, risorse che consentiranno anche di mettere in sicurezza la viabilità cittadina. E questo ci darà la possibilità di intervenire in via Aldosso dove ci sono stati molti incidenti specialmente vicino al parco comunale. Riusciremo a realizzare degli attraversamenti pedonali rialzati e la nuova fermata per gli autobus extraurbani in prossimità delle ultime case prima del cimitero. Anche in centro a Marzano comunque si riuscirà ad intervenire in via Alcantone che anche questa è una via comunque molto popolata, anche qui verrà fresata l'intero sedime e riasfaltato fino in fondo. È un'opera importante perché puntualmente quando ci sono delle precipitazioni si formano degli allagamenti che poi non consentono una normale viabilità. E' tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo l'appuntamento in prima serata con itinerari, Stefano Calvi ci porta a Retorbido. Grazie come sempre per averci seguito, una buona serata a tutti. Grazie 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 a tutti.